Buongiorno, sono Mauro, consulente commerciale Dacia di Gruppo Carmeli e oggi vi presento nuovo Dacia Duster 15esimo anniversario. Con un nuovo motore 1000 turbo benzina GPL, con 100 cavalli e un'ottima soluzione in ottica di mobilità sostenibile fino a 400 km con un pieno di 20 euro. Si tratta dell'allestimento più completo nella gamma, il design moderno dell'esterno è sottolineato dai nuovi gruppi ottici con luci di una red, dai cerchi lega da 17 pollici diamantati neri e dallo stripping esterno dedicato. La dotazione prevede un moderno sistema multimediale con schermo touch da 7 pollici a colori dal quale potrete gestire le funzioni audio, il vivo a voce bluetooth e le quattro telecamere di assistenza al parcheggio. Duster è inoltre equipaggiato con climatizzatore automatico, cruise control e con una comoda chiave elettronica. A completare la dotazione ci sono tutti i sistemi di sicurezza attivi e passivi tra cui ABS, controlla trazione, controlla stabilità, airbag frontali e laterali. La gamma Duster si completa poi con motori 1.5 DCI 115 cavalli e con i nuovissimi 1.3 turbo benzina 130 e 150 cavalli. Se ti è piaciuto il video lascia un commento qui sotto o chiamaci allo 030 77 24 011. i nostri consulenti saranno a tua disposizione.